Il MUSP di Piacenza è una delle 22 realtà a livello europeo entrata a far parte del progetto Vanguard, che ha l'obiettivo di abbattere gli sprechi facendo leva sul paradigma dell'economia circolare. Nei giorni scorsi il ricercatore piacentino del MUSP, Bruno Scaglioni, è volato a Bruxelles per presentare la parte di progetto di cui si occupera Piacenza, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna. Si tratta di un progetto di riuso di apparati industriali, sia per quanto riguarda le macchine utensili, che è quello che sviluppiamo qua, che vengono portati a fine vita naturalmente riguardo al loro ciclo di vita e vengono riutilizzati attraverso l'implementazione di tecnologie avanzate, di materiali avanzati che vengono inseriti a un nuovo ciclo di vita degli oggetti. Quali ricadute potrebbe avere un progetto del genere sul territorio piacentino? Possono essere importanti sia dal lato della produzione di nuovi posti di lavoro per quanto riguarda proprio nuovi impianti produttivi che implementino le tecnologie di cui stiamo parlando, sia nell'ampliamento di quelle che sono le realtà già presenti sul territorio che potrebbero beneficiare di queste nuove tecnologie e incrementare quindi il loro business. Michele Monno, direttore del MUSP, ci ha spiegato perché è così importante investire in ricerca in quella che viene chiamata economia circolare. Ci sono diversi motivi. Quello istituzionale, l'Emilia Romagna è la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge sull'economia circolare. Ma direi che possiamo andare oltre rispetto a questo aspetto formale. C'è un tema che credo qualsiasi cittadino condivida, il disprezzo che si prova nel guardare gli sprechi. Noi siamo in un mondo in cui si spreca moltissimo, si sprecano materiali, si sprecano risorse, si spreca cibo, si spreca energia e in contemporanea abbiamo una crisi di queste materie prime, del cibo o dell'energia necessaria, che ci induce a spendere di più. Il tema del de-manufacturing o quello del re-manufacturing, che è l'argomento in cui siamo coinvolti come laboratorio della rete regionale dell'Emilia Romagna, in questo progetto che si inserisce in iniziativa europea Vanguard, il senso è quello di sviluppare delle tecniche che permettano di riutilizzare in qualche modo i materiali o anche i macchinari.